Amici di Derby Derby Derby, un saluto da parte di Emanuele Landi. Storie di derby anche nel secondo turno playoff nazionale di Lega Pro. Nelle quattro sfide in programma sono stati sorteggiati gli abbinamenti, ci saranno ben tre derby nei quattro match in programma. Cominciamo dal derby toscano con il Pisa di Capitano Moscardelli che dopo aver eliminato la cara rese di Tavano e Maccarone troverà l'Arezzo in un derby tutto toscano, mentre nel derby di Sicilia ci sarà il Trapani che affronterà il Catania che ha eliminato nello scorso turno il Potenza con un doppio pareggio in virtù della miglior posizione in classifica. Il derby tutto emiliano invece tra Piocenza e Imolese. Unica sfida non derby, quella tra Cristina e Ferrapi Salò. Sfida in programma l'andata il 29 maggio, il ritorno il 2 giugno. Ricordando che le quattro squadre teste di serie, ossia il Pisa per la miglior posizione in classifica e le tre squadre classificate seconde nella regular season, ossia Triestina, Piacenza e Trapani avranno il vantaggio di potersi qualificare al prossimo turno anche con un doppio pareggio. Vedremo chi accederà all'ultimo turno, ossia alle semifinali e andrà a fare compagnia a Entella, Pordenone e Juve Stabia in Serie B.